La memoria storica per ricordare chi siamo, il presente per restare con i piedi e i valori ben saldi e il futuro per accompagnare e anticiparne i cambiamenti. La scuola di Cavalleria Zappalà di Lecce riparte da dove è sempre stata. L'avvicendamento tra il generale Claudio Dei e il colonnello Matteo Rizzitelli ne la conferma. Quello che ricorderò per sempre è tutta la collaborazione che ci sono state fra le istituzioni e fra tutta la gente del Salento che mi ha arricchito moltissimo. E' stato definito l'uomo in tuta, si ritrova in questa definizione? Sì, io sono l'uomo in tuta, mi piace mettere le mani nelle cose, quindi per mettere le mani ci vogliono le tute. Un passaggio di consegne che non è solo formale, visibilmente emozionato anche il nuovo comandante Rizzitelli in arrivo della scuola di applicazione dell'esercito e che ha già ricoperto diversi incarichi di comando tra cui il reggimento Nizza Cavalleria. Il generale Dei mi lascia un'eredità molto prestigiosa, è riuscito a portare la scuola a livelli altissimi e soprattutto ha saputo stringere un legame fortissimo col territorio. Continuerete a coniugare tradizione e innovazione? Certo, questo infatti è sempre stato lo spirito dell'arma di cavalleria, mantenere, essere fedele alle tradizioni ma guardare sempre al futuro. I miei soldati ho avuto modo già di chiedere di fare squadra, fare squadra in modo tale da poter continuare a far crescere la scuola e in questo modo contribuire effettivamente al nostro esercito e al nostro paese. La cerimonia è stata resa ancora più solenne dal conferimento della Croce d'Argento al Valor dell'esercito alla scuola di cavalleria per il contributo fornito durante la grave emergenza sanitaria nazionale nel periodo della pandemia, quale hub vaccinale per il Salento. Dopo il ringraziamento ai suoi soldati per il grande lavoro svolto durante questi quattro anni al comando da parte del generale Dei è toccato al comandante per la formazione, specializzazione e dottrina dell'esercito generale di corpo d'armata Carlo Lamanna testere le lodi della scuola di cavalleria di Lecce. Alla cerimonia hanno preso parte anche numerose autorità militari e civili e rappresentanze delle associazioni d'arma, lo standardo dell'arma di cavalleria e i reparti della scuola.